Eeeh, what's up? Tutti ci sono e benvenuti raggiungendo in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, dovete sapere che io delle tre ho seguito soltanto la conferenza Sony, per cui tutte le altre cose che sono state fatte vedere nelle altre conferenze, tipo quella Microsoft, quella Ubisoft e tutte le altre, io non le ho guardate. Per cui mi avete chiesto in diversi di portare una reaction sul gameplay trailer che è stato fatto vedere, ragazzi, da Microsoft, The Ori and the Will of the Wisps. Ovviamente come facevo a dire di no ad una reaction del genere, perché io sinceramente non vedo l'ora, oh mio Dio, di vedere quello che ha fatto. Vedere? Trova altri termini? No, eh. Va bene ragazzi, uff, respiriamo, sono emozionatissima. Andiamo a guardare questo gameplay trailer. Non avevi l'idea di cosa aspettarmi. Oddio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! WOOOOO 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 No, vabbè, no, 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 no Cioè, è possibile Possibile che con le cose che riguardano Ariane 2012 Finisco sempre per piangere Cioè, perché puntano ovviamente tantissimo ragazzi Con la questione del piccolo di Barbagiani Che tutti sappiamo chi è E cioè, vabbè, la parte iniziale del thriller È stata qualcosa di meraviglioso ragazzi Perché, cioè, hanno fatto vedere Come tutti loro si sono presi cura del piccolo Cioè, per me questa è una cosa veramente ragazzi Che sta al di là proprio Sta al di là, sta al di sopra Sta a qualsiasi roba Perché, cioè, no, di un'emozione unica Perché io perlomeno ragazzi so che cosa ha significato quell'uovo E quindi ripensarci mi squarcia l'anima E vedere, cioè, momenti così belli, no? Fra il piccolo e gli altri E cioè, di un'emozione veramente unica ragazzi A parte che poi quello che hanno fatto vedere Di come sarà il gameplay No ragazzi Sarà qualcosa di spettacolare Cavolo, assolutamente spettacolare Secondo me Supererà il primo Le mie aspettative su questo sequel ragazzi Sono veramente altissime Altissime Perché già quando In un primo capitolo Chiamiamolo così ragazzi C'hai il top Per il sequel Ti aspetti il top del top Non so se riesco a spiegarmi E quindi Lì devono essere i creatori Capaci di superare se stessi Tra virgolette Cioè capaci di superare il top Che hanno fatto nel primo capitolo E non è facile Non è Facile Ma da quel pochissimo Che ho visto Da questo gameplay trailer Secondo me ci sono riusciti Secondo me Questo gioco Non deluderà assolutamente Le aspettative Anzi Anzi Le soddisferà Le ripagherà In una maniera allucinante Perché cioè Sarà qualcosa di meraviglioso Mi avviso Abbiamo visto che esce nel 2019 Quindi Non sappiamo quando Nel 2019 Potrebbe essere al principio Potrebbe essere a metà Potrebbe essere alla fine Del 2019 Non lo sappiamo Fatto sta Dobbiamo aspettare ancora Diversi mesi Ciao Wow Wow Oh mio dio ragazzi Sono Sono emozionatissima Veramente Ovviamente Fatemi sapere Quali sono state Le vostre emozioni Quali sono state Le vostre impressioni Su questo gameplay trailer Sono curiosissima ragazzi Quindi questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione E un budosha a tutti ragazzi Sto fiedendo la pelle Ciao 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 Ciao